Questo sicuramente, questo lunedì 10 ottobre del 2022 con il campionato che dovrà ancora chiudere attraverso il suo epilogo, attraverso il match tra Fiorentina e Lazio, attraverso la sfida che questa sera tra l'altro seguiremo in diretta qui su 105.8 di Radio Incontro Lippia. Saremo qui, vedremo la partita insieme, la racconteremo insieme sperando di poter raccontare un qualcosa di importante anche alla luce di quello che è successo ieri e nel weekend con risultati particolari, risultati importanti, qualche sorpresa e soprattutto anche qualche scempio arbitrale come quelli che si sono vissuti ieri sera nell'esaltazione generale. No, perché poi oggi se leggi le movioli di quotidiani romani, come dire, l'arbitro pront'era ha sbagliato perché doveva spellere prima il giocatore del Lecce, non doveva aspettare il VAR che lo richiamasse per un episodio veramente pazzesco. Tutti e due vanno in scivolata, tutti e due vanno con la gamba alzata, uno arriva un secondo prima, non c'è volontarietà, non c'è rischio, non c'è pericolo, non c'è cattiveria e arriva però il cartellino rosso al 22esimo del primo tempo. Cioè con una squadra che è costretta a giocare di 70 minuti in inferiorità numerica. Poi arriva anche quel rigore che definire generoso a mio modo di vedere è esagerato perché non so neanche se c'è una strusciata, un tocchetto, qualcosa, ma il modo in cui cade Ebram è assolutamente innaturale rispetto a quello che sarebbe stato il tocco che ha subito. Veramente il classico rigore che ti danno... No, che danno solo alla Roma, Colantò. Su certi campi. Il classico rigore che danno solo alla Roma. Stavo dicendo su certi campi. No, 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 solo alla Roma. Non mi danno su certi campi, mi danno solo alla Roma. Solo alla Roma. Sono certi campi. Fatto sta che noi, e qui sposo una tua vecchia battaglia, sono d'accordo su questo, assolutamente. Noi siamo qui dopo Sturm Graz Lazio, non a fare dei pulci, a fare un De Profundis perché sentiamo messaggi, stiamo qui, ci abbeleniamo perché noi dobbiamo vincere e convincere su ogni campo. In teoria tu avevi vinto 1-0 con un gol di Immobile a 10 minuti alla fine, se Immobile non avessero avuto un'unghia del piede in fuorigioco. Però vabbè, noi dobbiamo avvelenarci su ogni partita, poi ti accorgi che c'è gente che vince le partite con un gol su rigore regalato e un'espulsione che è regalata contro il Lecce in casa. Però va bene così, in questo campionato così particolare.